I sogni non devono stare nel cassetto. Il mio sogno era far adottare gli olivi di mia nonna e quindi dare un seguito alla nostra generazione. Bisogna trovare le competenze e perseverare in questo lungo percorso che è il mondo digitale. Siamo una rete di imprese e grazie al digitale riusciamo a offrire i nostri prodotti e servizi sul territorio. Il digitale è una grande opportunità. Ci sono tante occasioni di incontri e di crescita professionale. Un esempio è il progetto Job Digital Lab. In ING vogliamo contribuire a creare internazionalmente un'economia più inclusiva, aiutando in maniera diretta 3 milioni di persone entro il 2025. In Italia questo significa offrire le competenze necessarie per restare al passo con i tempi ed avere più opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro. In particolare le competenze digitali nel nostro paese sono ancora poco sviluppate rispetto alla media europea. Job Digital Lab è la nostra risposta. In soli due anni abbiamo formato oltre 11.000 persone, di cui circa 7.000 sono donne, in cerca di lavoro o di riqualificazione professionale. E continueremo così a offrire informazione a chiunque voglia migliorarsi e investire sulle proprie competenze digitali. Sono convinta che in un'esperienza come questa le idee, gli spunti e le ispirazioni viaggino in maniera circolare. Quindi tutti danno un pezzettino e prendono un pezzettino. E in sintesi si realizza un circolo virtuoso che fa del bene a tutti. Ho seguito i corsi di podcast di Job Digital Lab e li ho trovati molto utili per quello che faccio. Mi occupo di contenuti web e di giornalismo e scrivo di finanza e di e-learning. Job Digital Lab mi ha permesso di formarmi e di avere migliori opportunità professionali. La Fondazione Mondo Digitale continua a mettere a disposizione la propria professionalità. Una formazione completamente dinamica, eventi live con esperti, videopillole per la formazione in completa autonomia, eventi territoriali per la formazione a misura dei territori, incontri di role modeling con professionisti di ING Italia ed infine uno Startup Lab al femminile, un grande insieme di professionisti disponibili tutto l'anno per accompagnare chiunque ad acquisire le competenze oggi necessarie nel mondo del lavoro. Ho partecipato allo Startup Lab, un corso sull'autoimprenditoria femminile. Presentare il mio progetto è stato bellissimo perché mi ha permesso di conoscere persone del settore non solo, per avere contatti, networking ed è stato molto utile. Questo tipo di corso di formazione digitale che abbiamo fatto è stato molto utile per i nostri corsisti perché devono orientare in formazione, devono rientrare in gioco con nuovi strumenti, con delle possibilità in più che potranno utilizzare nel mondo. Ho partecipato al Job Digital Lab. Cosa mi resta? Degli strumenti che mi sono utili per il mio lavoro, la collaborazione con due altri partecipanti e la consapevolezza di un luogo dove tornare per la mia formazione continua. Grazie a tutti!